Ben trovati, venerdì 30 settembre, ultima trasmissione della settimana, ultima trasmissione del mese, ma ci prendiamo noi anche qualche piccolo merito, è la 600esima trasmissione di Tutto in dieci minuti. Tutto quanto fa notizia, ma fa anche spettacolo, oggi noto, celebra un importante evento. Alle 12 in punto a Palazzo Nicolaci il principe Alberto II di Monaco sarà ospite del Consiglio Comunale per un importante evento, il conferimento della cittadinanza onoraria. Io ho detto a Palazzo Nicolaci perché è stata scelta quella sede, la storica sede dei principi Nicolaci di Villa Dorata per questo importante evento e quindi sarà una seduta aperta del Consiglio Comunale. Dopo il principe, accompagnato dal sindaco, si recherà in cattedrale per una visita, ma parleremo degli altri momenti di questa importante giornata con Ottavio Gintoli della Sicilia. Bentrovato. Salve direttore. Buon vero. Abbiamo parlato che ultima trasmissione della settimana, ultima trasmissione del fese, festeggiamo noi le 600 trasmissioni e quindi dall'altra parte c'è Marco che saluto con affetto per questo traguardo raggiunta insieme. Oggi noto, celebra anche questo importante evento, questa cerimonia. Sì, direttore, oggi è un altro dei giorni importanti per la nostra noto, un 2016 prezioso da questo punto di vista perché abbiamo registrato tante visite illustri. Ci ricordiamo quella più importante, quella del Presidente della Repubblica Sergio Mantarella e mettiamo, dato che stiamo parlando anche di nobili, quella delle reti di Casa Savoia, Emanuele Filiberto. Oggi tocca ad Alberto II di Monaco che arriva a noto per prendersi questa cittadinanza onoraria, una cittadinanza onoraria che parte da lontano, parte da vendicari, perché come ben sappiamo Alberto di Monaco è molto sensibile alla causa di vendicari, ha donato più volte un po' di soldi, mettiamola così, non sappiamo di preciso quanto in totale. Una è servita per la biblioteca. Infatti la biblioteca che poi sarà intitolata al Principe oggi pomeriggio, non mi ricordo, penso che sia prima del concetto conclusivo. Alle 17. Alle 17. Alle 17 infatti ci trasferiremo a vendicari per la visita, la riserva e poi per assistere a questo momento di inaugurazione. Ci sarà il pranzo a Palazzo Nicolaci, abbiamo qualche chicca, possiamo dirla. Un pranzo comunque semplice, dovrebbe essere con servizio all'italiana, dovrebbe essere una ditta di Catania ad occuparsene, di San Giovanni la Punta, risotto alla Verdi, dovrebbe esserci un antipasto con l'uovo di quadra, mi sembra, di aver letto. Comunque semplice anche per non abbuffarsi troppo, perché poi è una giornata impegnativa. E che dire direttore, ci accogliamo nel migliore dei modi il Principe Alberto, che arriva anche per questioni di amicizia, è molto legato ad un artista che ha deciso di trasferirsi qui, ha noto, meglio, acquistato un'ala di un palazzo nobiliare importante come quello della famiglia Rau. Mi sto riferendo al maestro Marcello Lo Giudice e, ripeto, sarà una giornata importante, aspettiamo più tardi di essere anche noi presenti a questa giornata importante. Dicevi della importante visita molto veloce dell'aprile scorso del Capo dello Stato Sergio Mattarella, importante il 2016 per noto, perché è vero che Alberto II di Monaco è un principe, ma non dimentichiamo, cosa è più importante, che è un capo di Stato, quindi nel 2006 a noto sono arrivati, uno arriverà stamattina, due Presidenti della Repubblica. Sì, è un riconoscimento sicuramente importante per noto e vuol dire che è stato fatto qualcosa di buono. Che noto troverà il Principe Alberto? Trova una noto che sta vivendo il cambio di stagione, non come un armario ovviamente, c'è questo passaggio dalla stagione estiva all'inizio dell'autunno, un passaggio un po' lento, anche il turismo sta comunque rispondendo bene, nonostante si pensi che ad ottobre, magari ancora siamo a settembre, ci sia un calo delle presenze. Una noto che viaggia probabilmente a due velocità, forse un argomento che abbiamo trattato sia sul cartaceo che in alcune trasmissioni del periodo estivo, sicuramente trova un centro bello, un centro ricco, splendente e magari se dovesse passare da qualche strada di periferia, magari troverà ancora i lavori per la fibra ottica che hanno costretto alla chiusura dell'ultimo tratto di via Reconfallonieri, il tratto verso il passaggio a livello, verso Lido e troverà sicuramente anche una città festosa perché penso che tanti curiosi non mancheranno di scattare foto e magari immortalarsi sarà difficile perché comunque già mi ricordo nella vecchia visita era stata allestita la sicurezza, ovviamente viene un principe, viene un capo di stato, è logico che sia così perché poi è giusto che sia meglio esagerare in questa situazione. Quindi sarà una giornata importante, ci siamo fermati con te a descrivere il momento più importante della cerimonia che è quello legato al conferimento della cittadinanza onoraria, poi ho detto che alle 13 entrerà in cattedrale per una veloce visita, poi c'è il pranzo, ci sarà qualche attimo anche per cambiarsi e per riposarsi perché nel pomeriggio c'è anche una sorta di tour de force, alle 17 sarà a Vendicari anche per l'inaugurazione della biblioteca a lui intestata, lo ricordavi tu, è una persona ma prima di lui anche suo padre e suo nonno, gente che continua a spendersi per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente, dopo quel momento ce ne sarà ancora un altro importante perché andranno a visitare i mosaici della villa del Tellaro incontrata a Caddede e siamo lungo la strada che da Vendicari porta a noto, poi c'è questo momento di festa forse volutamente reso pubblico con tutta la città perché alle 19.30 sul sagrato della Basilica del Santissimo Salvatore c'è un concetto, sono dei tempi molto stretti anche perché sappiamo che non si può sforare assolutamente quello che è il cerimoniale, non esiste da luna, luna e 25, lì si è rigidi e molto precisi, come ti prepari a questa giornata? Mi preparo da reporter d'assalto, macchina fotografica, un taccuino, telefonino a portata di mano che è sicuramente il più pratico, sarà bello raccontarla ma più che raccontare quello che succede raccontare le curiosità perché sappiamo che Alberto di Monaco viene a noto ma sarà bello capire le sue sensazioni e appunto raccontare come abbiamo detto del venue, raccontare dello spettacolo, raccontare magari quale sarà il primo libro che aprirà quando entrerà nella biblioteca a lui dedicato e appunto raccontare le curiosità di questa bella visita, bella e importante visita. Noi abbiamo anticipato la giornata di Alberto II di Monaco, del principe Alberto II di Monaco e non ci rimane che rimandarvi alle prossime trasmissioni, nei prossimi giorni per raccontarvi nel dettaglio e per mostrarvi con foto, spezzoni e video quanto è successo. Per il momento chiudiamo l'ultima puntata della settimana, l'ultima del mese e anche la 600esima trasmissione. Grazie a Ottavio Gintoli, grazie a quanti ci avete seguito, l'appuntamento è per lunedì prossimo.